Sono 348 i fascicoli aperti dalla procura di Arezzo nell'ultimo anno per codice rosso, reati cioè contro le cosiddette categorie fragili donne, anziani e bambini. Il dato emerge dall'apertura dell'anno giudiziario avvenuta a Firenze sabato scorso e i numeri aretini sono in linea con quelli toscani rappresentati dal procuratore generale Marcello Viola. Complice la pandemia e il lockdown, probabile. La permanenza forzata con i loro aguzzini purtroppo ha determinato una condizione ancora maggiore di debolezza per le vittime di questi reati. Quasi ogni giorno viene denunciato un caso di abusi, soprusi o maltrattamenti, dallo stalking alle molestie alle nuove violenze digitali con immagini pornografiche. C'è molto sommerso per questo tipo di reati ad ogni modo. Quelli denunciati 198 riguardano donne, 17 sono casi di reato contro persone anziane, 47 nei confronti di minorenni. Un fenomeno insomma in crescita e per arginarlo vengono adottati protocolli tra istituzioni e associazioni. È stato il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi ad esporre alla procura generale l'esperienza retina, la rete provinciale a contrasto della violenza di genere per favorire l'emergere di casi altrimenti sommersi.